Ci troviamo a Pizzighettone, nella frazione di Gera, sul fiume Adda, diciamo nel tratto più basso dal fiume Adda. In realtà abbiamo 15 chilometri per arrivare al grande fiume, però abbiamo una centrale che ci evita questo passaggio, nonostante di contro ci lasci la possibilità di navigazione tutto l'anno, mantenendo livelli idrisi di un certo tipo. Il primo giorno a bordo della speciale slitta di Babbo Natale è stato domenica 10 dicembre. Da allora è stato un boom di visitatori che grazie a Pizzighettone Fiere dell'Adda e Consorzio Navigare l'Adda hanno raggiunto il pontile di Gera per l'imbarco sulla motonave capiniera trasformata con tanto di renne. I tour sul fiume che prevedono il passaggio sotto il ponte di Pizzighettone raggiungendo il porta soccorso per poi rientrare al punto di partenza passando per la Torre del Guado al costo di 5 euro al biglietto andranno avanti fino al 6 gennaio. Un'iniziativa un po' particolare nel senso che comunque al di là delle classiche navigazioni che comunque facciamo tutto l'anno era bello mantenere vivo un servizio anche durante il periodo invernale che è quello un po' meno scontato. E poi un po' il ritorno alle tradizioni, siamo comunque gente di fiume, siamo gente legata al contesto naturale, ai due fiumi che circondano i nostri territori e quindi ci sembrava giusto offrire un servizio un po' particolare che consenta di vedere, di apprezzare il bello del Natale anche da una prospettiva diversa. Chi volesse venire a fare un piccolo giro, vedere qualcosa di diverso, o meglio, vederlo sotto una prospettiva diversa, sotto una prospettiva che forse ci siamo dimenticati perché la navigazione è qualcosa di lento. In una vita frenetica come questa le piccole cose apprezzate lentamente possono fare la differenza.